Giorgio, ti dispiace venire qui un istante? Innanzitutto, grazie per essere intervenuto alla nostra trasmissione, la signorina Parisi, Giorgio Gabri, il signore Scalia. Poi, senti, Giorgio, io vorrei approfittare della tua presenza per chiederti una cosa. Noi stiamo trattando così molto alla buona il tema spettacolo e abbiamo toccato un po' tutti i vari rami. Ci manca il cabaret. Oggi il cabaret va molto di moda. Penso che tu potresti darmi una mano, no? Sì, l'unico fatto è che il cabaret è uno spettacolo abbastanza intimo, un po' per pochi. Siamo un po' in tanti, è questione di adattarsi. Ah beh, va bene, facciamolo fra noi. Anche perché la cantucina che voglio cantare è una cosa veramente molto leggera. Va bene, ecco qua la chitarra che arriva, grazie a Marcella. Grazie. Eh? Ecco, è tua? Sì, è mia, proprio la tua. Senti, com'è che... È una storia, è una storia di un signore che è molto preoccupato perché è malato. Ah. Il malato quindi va dal dottore a farsi curare, anche perché ha molta fiducia del suo medico e nella medicina in genere. Si chiama Goganga. Come si chiama? Goganga. Goganga. Che vuole? Goganga. Ah, già, è giusto. Buongiorno dottore, come vede sono affetto da questo grave difetto, questo fischio non m'abbandona e le donne ridono di me. Oh, 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 caro signore, per i malati di fischietto ho brevettato questo apparecchietto. Permette? Glielo applico e vedrà, lei guarirà. Goganga. 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 Gheghe. 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 Vado a fare per guarire da questo difetto, vado a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, in vero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarire. Goganga. 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 Gheghe. 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 Il nostro paziente, che bella c'era, la trovo bene, come sta la sua grillite, ora le tolgo il nostro apparecchietto e vedrà, lei guarirà. Goganga. 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 Dicot. Goganga. Goganga. Dunque, oh dottore, accidenti, sono affetto, non ben più grave, difetto e sa cosa le dico? Lo... Pfft! 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 Applausi! Pfft! Pfft! Pfft!